Finalmente ce l'abbiamo fatta. L'amministrazione comunale di Venezia finalmente troverà nel sistema online il bando per l'autorimessa comunale. Da oggi è disponibile sul sito del Comune di Venezia il bando per l'assegnazione di abbonamenti ordinari al garage comunale di Piazzale Roma. Saranno assegnati 175 posti auto a persone fisiche con residenza anagrafica nella Venezia insulare, di cui 12 riservati a persone titolari di contrassegno disabili. Altri 75 posti sono riservati a persone giuridiche, enti, associazioni, attività commerciali, artigianali, professionali e lavoratori autonomi con principale sede operativa a Venezia. Abbiamo deciso di avere un tempo sufficientemente necessario, praticamente 90 giorni in cui chi vuole può partecipare all'affidamento tramite bando di uno di questi posti messi a disposizione dall'amministrazione comunale. È stato un lungo percorso, difficile, questo va detto. Abbiamo ovviamente dovuto ricostruire tutta la disponibilità dei posti auto. Un riferimento quest'ultimo che presumibilmente chiama in causa le polemiche che i tempi del bando avevano provocato in consiglio comunale. In ogni caso, per l'assessore Boraso, il bando può essere definito come un'iniezione positiva a favore di tutte quelle persone che con coraggio e fiducia rivolgono la loro attenzione verso Venezia e le sue isole. Non solo quale luogo di residenza, ma anche di lavoro e studio, in sostanza di vita quotidiana. Divadiamo un concetto semplice. Solo i residenti nel centro storico isole possono partecipare a questo bando. E per la prima volta nella storia di questi bandi diamo un punteggio calmerato sulla base dell'anzianità di residenza in centro storico di Venezia.